Ciao, buonasera, sono Alessandro, delegato giovani del rinnovamento dello Spirito Santo per la Regione Toscana. Dall'1 al 6 agosto abbiamo vissuto qui a Marina di Massa la nostra vacanza carismatica giovani, con tutti i giovani provenienti da tutte le regioni d'Italia. Nonostante le fatiche che ci sono state, tutti gli impedimenti, anche l'ultimo momento dell'organizzazione, ogni giorno, nonostante appunto la stanchezza, sono sempre più contento e ringrazio Dio perché vedo come opera nei nostri giovani, come parla il loro cuore e le loro vite, come rinnova la loro fede. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, di quello che ha bisogno la Chiesa e quello di cui necessitano i nostri giovani. Domani si concluderà questa vacanza e vivremo il nostro mandato perché nonostante quello che viviamo, ma che abbiamo vissuto, che il Signore ci dona, la vera sfida è quella di tornare a casa e nel nostro quotidiano saper testimoniare la felicità, l'amore, la gioia e la salvezza di Cristo Re. Buonasera a tutti, sono Marianna e vengo da Lazio. Ringrazio Dio per avermi chiamato in questa vacanza carismatica del 2022. Sono felicissima di essere tornata a lodare il Signore in mezzo a tutti questi giovani. Siamo 350 circa e è meraviglioso lodare il Signore con i nostri coetanei. Purtroppo la pandemia mi ha tolto due anni di lode con i giovani. Siamo stati chiusi a casa e sono stata felicissima di tornare qui in mezzo a tutti quanti. Ringrazio il Signore perché mi ha donato tanto. Mi ha donato pace, mi ha donato gioia, mi ha donato vocazione e sono molto felice di annunciarvi che ho appreso di essere un prodigio di Dio. Sembra banale ma in verità è una cosa meravigliosa. Dovrebbe essere posta proprio al primo posto, essere un prodigio di Dio. E io in questa vacanza carismatica l'ho appreso. Sono un prodigio di Dio e tutti siamo prodigi e doni bellissimi che Dio ha programmato fin dal grembo di nostra madre. Io quindi porto questo annuncio di essere un prodigio e spero che anche tutti quanti che mi ascoltate e che siete presenti anche in questa vacanza, che possiate venire e faccio anche un grande invito che potete avere questa gioia nel cuore di essere prodigi di Dio. Alleluia. Alleluia. Va bene, ciao, io mi chiamo Marco, ho 29 anni, vengo dalla Svizzera e mi scuso per il mio italiano, faccio un po' fatica. Però sì, sono venuto a Massa che per fortuna avevo le vacanze là e di solito è un po' difficile di venire qua in quei giorni che non coincidono con le giornate che possono venire, però il Signore ha dato questa possibilità di poter venire qua a Marina di Massa. Io sono Valentina, ho 26 anni e vengo dal Veneto, noi siamo finanzati ufficialmente, abbiamo il desiderio di sposarci il prossimo anno e vivere insieme questa vacanza è stato proprio un regalo che ci siamo fatti, proprio per darci del tempo anche per stare insieme e vivere insieme l'incontro con il Signore. È stata una settimana ricca, ricca di grazia, di meraviglia, di esperienze per prima cosa personali. Io sento di aver lavorato su di me per capire chi sono io, per poi aprirmi alla relazione con il mio ragazzo, con Marco e con gli altri. Grazie.